Casa Solievo è un progetto che è nato circa due anni fa dall'incontro, da varie riunioni infatti con le famiglie che appartengono al centro di urno e hanno figli con disabilità intellettiva. Casa Solievo è un piccolo appartamento di cinque posti che sarà dedicato all'accoglienza di persone con disabilità nel momento in cui i propri genitori, i propri familiari hanno una necessità di sollievo, quindi magari hanno bisogno di fare un ricovero ospedaliero o magari allontanarsi dalla città. Oltre a questo sarà anche una sorta di palestra perché permetterà a tutti coloro che vorranno provare in tutta la città sostanzialmente a vivere alcuni periodi della loro vita fuori dalla propria famiglia e dal proprio nucleo di origine. L'handicap non è solo sedia a rotelle e quindi barriere fisiche, l'handicap è anche difficoltà psichica e relazionale. Entrambi questi aspetti sono difficili e vanno affrontati in modo diverso e impegnativo. Il centro di urno è essenziale per permettere di continuare la vita lavorativa della famiglia. La Casa Solievo invece permetterà di gestire più serenamente l'imprevisto di ogni genere, più o meno grave, e di continuare a mantenere una rete sociale di amicizie che altrimenti viene meno. Nome più appropriato non poteva esserci, il Sollievo della famiglia. Casa Solievo è anche il primo passo per pensare ad un dopo di noi sereno per i nostri figli e per noi. Clara, la mamma di Lorenzo. I problemi che assillano prevalentemente i genitori è pensare di trovarsi nelle condizioni di non potersi prendere cura del proprio figlio, di trovarsi nelle condizioni che per qualche motivo impediscano di occuparsi del proprio figlio. Casa Solievo risponde quindi a un bisogno reale, concreto, è una risposta sicuramente efficace ed è di preludio a quello che è un progetto che stiamo costruendo insieme con il Centro Papa Giovanni XXIII e la cooperativa. Stiamo costruendo quello che è il dopo di noi, la possibilità quindi adesso di intervenire in risposta a bisogni di accoglienza, di accudimento, di ospitalità, in particolare in condizioni di criticità. Decidere di sostenere Casa Solievo è semplice, con 20 euro puoi donare anche tu il tuo mattone per costruire un futuro sereno per le persone disabili e per le proprie famiglie. Come fare? Puoi fare una donazione tramite conto corrente postale 144600 oppure con bonifico bancario o altrimenti se sei più tecnologico puoi andare sul nostro sito www.centropapagiovanni.it e schiacciare il tasto Donaora. Questa donazione permetterà di iniziare i lavori di ristrutturazione di Casa Solievo e garantire così il servizio per le prime persone. Ti ringraziamo perché insieme possiamo dare una risposta ad un bisogno della nostra città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.